Mi tormenta l'idea di incontrare per strada un demone che, con il solito sorriso sarcastico, consegnandomi un foglietto con su scritto un nuovo destino, mi faccia toccare con mano di quale portata fosse l'illusione della mia esistenza, oggi o perché no, domani, senza nemmeno preavviso. Straniero e bendato, questo futuro ogni volta mi ha cambiato la vita, spalancandomi le porte dell'oscurità. Opponendosi alla chiarità dei giorni, procederà verso di me a tentoni, tasterà l'aria circostante e poi, dopo un istante, mi toccherà il viso, e stringendomi con un mezzo sorriso, mi dirà domani, vedremo domani, si vedrà.